E vai ragazzi, oggi pasta col tonno! Spaghetti col tonno è un piatto semplicissimo ma uno dei miei preferiti. Gli ingredienti sono quelli semplici, quindi di qualità. Acciughe, prezzemolo, aglio, pomodori pelati, capperi, peperoncino, tonno, olive, spaghetti e olio. Partiamo dall'aglio. Oh, questo è veloce! Olio. L'aglio, gli diamo un po' di profumo. Peperoncino, bello piccante. A sto fondo gli diamo un po' di sprint. Cappeli, un po' di salinità con una bella acciuga. E vai! Ragazzi, c'è già un profumo. Adesso aggiungiamo i pelati. Mi schiacciamo a mano, eh! Adesso lo facciamo cuocere 5 minuti. Intanto buttiamo la pasta. Adesso andiamo con le olive. Il tonno, ragazzi, è già cotto. Guardate che bei filetti. Quindi non lo dobbiamo strafuocere. 3-4 minuti, mettiamo il tonno. Che profumo! Scoliamo! Finiamo col prezzemolo che ci sta bene. Gli diamo un po' di profumo. E buon appetito! Io vi ringrazio per aver visto questo video e se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi per non perdervi i successivi.